L'Italia ha bisogno di cambiamento. Nel rispetto pieno dei valori della Carta Costituzionale noi dobbiamo dimostrare a noi stessi prima di tutti e all'Europa che l'Italia può riformarsi e cambiare. La legge sulle unioni civili ci ha dimostrato che il bicameralismo paritario e perfetto non è più all'altezza delle risposte urgenti che il Paese attende. La legge avremmo potuto farla in molto meno tempo, io ho impiegato due anni e mezzo, pensate che stiamo ancora elaborando i decreti attuativi. Bisogna diminuire il tempo per fare buone leggi, diminuire il potere di veto e dare più stabilità ai governi. Attraverso il voto del 4 dicembre, votando sì, rinnoveremo l'Italia, rispetteremo la Costituzione, daremo risposte e speranza al futuro dei nostri giovani.